Eccolo qua, questo è il consenso informato che ogni centro vaccinale farà firmare ovviamente a chi è sotto i 60 anni, ha fatto la prima dose con AstraZeneca e dovrà fare la seconda dose con Moderna o Pfizer. La vaccinazione eterologa dunque in prima dose con AstraZeneca, seconda dose con Pfizer o Moderna deve essere autorizzata da chi la riceve ed ecco il modello già in uso nei centri vaccinali che di fatto richiede un consenso, come indicato da un decreto legge al cambio di tipologia di vaccino in corsa. Per chi lo vorrà però, e questa è la novità della giornata, la seconda dose potrà essere ancora con AstraZeneca ma dovrà essere espressamente richiesto. Purché il cittadino faccia la seconda dose, cioè che quindi si protegga totalmente, si immunizzi, diceva il CTS con la nuova nota, beh allora potete fare anche la seconda dose di AstraZeneca. Però io raccomando veramente a tutti di accettare quello che vi propongono i nostri medici vaccinatori, cioè di fare l'eterologa. Il direttore generale dell'Ulss2 non ha dubbi nell'esortare i cittadini under 60 a scegliere la vaccinazione eterologa in piena linea con la CTS e governo. Noi dobbiamo avere il principio chiaramente della cautela perché dobbiamo prevenire l'insorgenza di fenomeni ecodruti, legati evidentemente sotto i 60 anni a problemi che abbiamo visto poteva portare a AstraZeneca. Nessuna riorganizzazione dunque per le Ulss, ma solo tempi di vaccinazioni che potrebbero allungarsi un po'. L'anamnesi ora con il consenso spiegato e firmato porterà via più tempo. Nessuna sorpresa con questo doppio binario per la scelta. Gli sforzi per l'azienda sanitaria continuano a concentrarsi sui giovani che nel Trevigiano stanno rispondendo con entusiasmo. Con quelli diciamo prenotati fino ad oggi arriviamo oltre il 45%, 43-44%, quindi voglio dire un ottimo risultato. È chiaro che bisogna premere di più per portare a casa di più, però dobbiamo avere anche vaccini per avere la certezza di aprire ulteriori spazi per i giovani. Grazie.